Ma perché c'è una chiave per fortuna, perché è una chiave per fortuna, cosa che c'è? La parte del cuore è la batteria in bastone, ma se vuoi fare fotografie di serie? Prego, questa è meravigliosa, io la so qual è, è da duplicare, grazie mille, troppo gentile E lei ritiri la sede